La volontà del Comune sancita da un ordine del giorno di intitolare qualcosa in città Silvio Berlusconi per il suo impegno nel post-sisma ha suscitato molte reazioni. Si è paventata la possibilità di intitolare all'ex Presidente del Consiglio l'aeroporto, che però è già intitolato a Giuliana Tamburro, scomparsa proprio a causa del sisma. A prendere carte e penne e a rivolgersi al Sindaco Biondi è la sorella Fabiola, che vive a Vasto. Fabiola spiega che linea di principio non hanno nulla contro l'intitolazione e la figura in sé. Anche se scrive saremmo rammaricati se la cosa andasse in porto, perché di certo il nome di Berlusconi finirebbe per oscurare quello di Giuliana. Forse chi ha avanzato la proposta ignora, spiega la sorella, che lo scorso 21 giugno la regione Lombardia ha già approvato un ordine del giorno per intitolare al padre di Forza Italia l'aeroporto di Milano malpensa a scalo di rilievo internazionale. Dalla famiglia anche un suggerimento intitolare all'ex premier Palazzo Margherita, che diventerebbe così il simbolo del riconoscimento del popolo aquilano a colui che, da presidente del Consiglio, coordinò la difficile ricostruzione, riuscendo a salvare migliaia di cittadini consegnando loro in tempi record case vere. Fu l'Enac, come si ricorderà su richiesta del Comune, a intitolare l'aeroporto a Giuliana Tamburro. L'intitolazione, scrive ancora la sorella, deriva dal fatto che Giuliana era il simbolo di una nuova generazione di donne abruzzesi, la cui intelligenza non era solo a servizio della propria carriera o famiglia, ma anche del paese. Lo scalo fu intitolato alla Tamburro nel 2013. Era un ingegnere elettronico, Giuliana, coordinatrice del settore ricerca, tecnologie e programmi dell'Enac, aquilana ma conosciuta e stimata a livello internazionale per la sua grande professionalità, intelligenza, ma anche per le sue grandi dote umane. Di certo questa lettera farà riflettere. Grazie a tutti.